Grazie, io devo dire che ho ascoltato gli interventi delle opposizioni e vedo che normalmente insistono a dire che è battuto male, che non è stato risolto niente, quando invece questa amministrazione sta facendo degli sforzi enormi per cercare di risolvere i problemi della città. Anzi, molti hanno giustamente parlato di Ama perché fa parte di questa variazione di bilancio, però dimenticano che noi abbiamo di recente votato un piano economico finanziario per Ama, dove i crediti inesigibili di Ama degli anni 2003-2009, crediti che solo fittiziamente erano nel bilancio di Ama, in realtà sono diventati crediti inesigibili e questa amministrazione ha pensato giustamente di rimborsare Ama per questi, vado a memoria, erano poco sopra i 100 milioni, 104 se non ricordo male, ma di rimborsare Ama in 4 anni, dando il primo anno 35 milioni, il secondo anno 35 milioni, poi il 17 e il secondo 16 e 5, vado sempre a memoria, ma credo di non sbagliare a dover dare questi numeri. E questi sono soldi in moneta sonante, che poi si aggiungono ai 50 milioni di questa variazione di bilancio, per cui questa amministrazione sta cercando di risolvere il problema enorme che si è trovato con i bilanci di Ama. Io vorrei ricordare a tutti i consiglieri e ai cittadini che seguono l'Aula che quando noi abbiamo avuto il problema dei famosi, oramai sono diventati veramente famosi, 18 milioni dei servizi cimiteriali, col quale non c'era sostanzialmente il parere positivo da parte dell'amministrazione per questi 18 milioni. Scusate solo un istante. Con questi 18 milioni alla fine in realtà noi abbiamo aperto un cosiddetto vaso di Pandora, perché l'andare a scavare relativamente al bilancio di Ama la situazione contabile, abbiamo trovato che la situazione era ben peggiore di quella che pensavamo, immaginavamo in un primo momento. Per cui alla fine ci siamo messi di lena, io ringrazio veramente l'assessore e tutti coloro che stanno lavorando lacrimente per risolvere il problema economico di Ama e ritengo che finalmente, mi auguro veramente a breve, potranno essere approvati i bilanci di Ama che dal 2017 non vengono approvati, ma proprio per tutte le criticità contabili che ci sono state. per cui un lavoro molto importante, un lavoro serio, come hanno scritto anche i giornali, noi ci ritroviamo con la magistratura che sta indagando sui bilanci di Ama degli anni passati, ma stiamo parlando anche dal 2003. Poi ci dicono sempre che noi parliamo del passato e del disastro che ci è stato lasciato. Purtroppo questi problemi delle volte sono delle matasse aggrovigliate che è difficile dover risolvere. E per risolvere i problemi di Ama, come abbiamo fatto poi sostanzialmente anche con Atac, noi con Atac abbiamo fatto un grandissimo lavoro sin dal primo momento da un punto di vista dei bilanci e lì siamo riusciti prima a risolvere il problema. Qui oggettivamente ci abbiamo messo di più, forse si può dire che ci abbiamo messo anche, qualcuno potrebbe dire troppo, però l'importante è andare nella direzione giusta. E la direzione giusta ultimamente oggettivamente si sta trovando. Perché prima si fa pulizia sui conti di Ama e poi si riuscirà a risolvere quei problemi strutturali che Ama ha da sempre e che oggettivamente stiamo facendo tanta fatica a dover risolvere. Per cui io colgo con favore gli appostamenti di bilancio che sono stati fatti in favore di Ama anche in questa variazione di bilancio e che si aggiungono a questo, come ho detto prima, al piano economico e finanziario dove alla fine abbiamo risolto una parte dei problemi economici di Ama con questi crediti inesigibili degli anni 2003-2009. Sono una piccola parte probabilmente dei problemi di bilancio che ci stanno e io sono sicuro che presto avremo delle soluzioni strutturali, vere, serie, approfondite su questa partecipata che è probabilmente l'argomento un po' più complicato sul quale noi stiamo facendo difficoltà a dover avere dei risultati. Certo è che dire che non è stato fatto niente quando in realtà poi alcune cose importanti per risolvere i problemi di Ama di fatto sono state fatte, che non bastano, è un'inversione di tendenza, è un inizio, non è un inizio di un percorso nuovo, però ultimamente io sento che ci stiamo indirizzando verso la direzione giusta. Poi io sento tante, ho ascoltato tanti interventi da parte delle opposizioni, per esempio il consigliere Figliomeni che ha parlato di consulenze, ha detto questa parola, ha parlato di consulenze, che la giunta perde tempo, spende soldi sulle consulenze, ma come? Non è così. Ovviamente loro sanno che non è questa la situazione, sanno che in realtà noi abbiamo avuto una situazione in cui un assessore ai rifiuti per tanto tempo non c'è stata, è stata nominata da poco e giustamente deve avere un suo staff, un suo capo staff e delle persone che devono lavorare con lei, così come la stessa assessora al verde, Fiorini, ha avuto la sua capo staff, una persona tra l'altro splendida, con la quale abbiamo lavorato molto bene in questo periodo, che ha vinto un concorso e ha lasciato il posto, per cui c'è stata la necessità di dover nominare un nuovo capo staff e di poter integrare ulteriormente lo staff che si sa che sono quei numeri, punto, per cui sono state una serie di nomine all'interno degli staff, degli assessori, che è una cosa assolutamente normale, è una cosa che ovviamente va da sé e attaccarci per questo ovviamente pretestuoso, chiaramente pretestuoso e di cose pretestuose devo dire ne ho ascoltate tante con un atteggiamento molto disfattista. Io devo dire poi bisogna effettivamente lodare le opposizioni quando hanno un atteggiamento responsabile e in questo caso, in questa variazione di bilancio oggettivamente, alla fine stanno avendo un atteggiamento molto, diciamo, tra virgolette tranquillo. Possiamo dire che non è stata la stessa cosa con la delibera delle botticelle, su cui è stata fatta un ostruzionismo che oggettivamente dopo sei giorni di aula noi non siamo ancora raggiunti alla conclusione. In questo caso invece... Possiamo concludere l'attinenza dell'intervento con la variazione. Sì, sì, ma rimango all'attinenza dell'intervento perché parlavo proprio dell'ostruzionismo che in questi giorni c'è stata, mentre nella variazione di bilancio bisogna dare atto alle opposizioni che effettivamente non è stata fatta. Per cui io posso dire che a nome del Movimento 5 Stelle noi approviamo questa variazione di bilancio che è assolutamente importante, che i tempi tecnici anche per i decreti governativi ha fatto sì che arrivassero all'ultimo momento, è un passo importante per la città ed è giusto che noi andiamo in votazione con questo documento. la ringrazio Presidente. Grazie a tutti.